Ed è stata presentata presso la Fondazione Perugia Musica Classica la seconda edizione del progetto Musica come Dono che coinvolge detenuti, anziani e pazienti. I dettagli da Alessio Romanelli. Note solidarietà e inclusione entra nel vivo la seconda edizione di Musica come Dono. Dopo l'anteprima dello scorso settembre il progetto proseguirà fino a fine maggio con una ventina di appuntamenti che coinvolgeranno soggetti con disturbi cognitivi lievi e i loro cargivers, pazienti della struttura complessa di radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, ospiti dell'istituto Opere Piedonini di Perugia e detenute del complesso penitenziario di Capanne. Lavoriamo per diffondere sempre di più, scambiare sempre di più questo dono che abbiamo, che è appunto la musica. La Fondazione Perugia Musica Classica mette insieme la storia dei Amici della Musica. Pensate che siamo alla settantaquattresima edizione. Il prossimo concerto sarà il 2636esimo della stagione. Quindi questo fa capire la dimensione di quello che appunto gli Amici della Musica sono stati per Perugia. Il comune sostiene questo progetto e plaude alla Fondazione Perugia Musica Classica e alla Fondazione Cassa e Risparmio che lo sostengono perché se possibile queste occasioni amplificano il valore della musica, che ha un valore in sé ma che diventa ancora maggiore quando lo si pone al servizio delle realtà più complesse, delle realtà più bisognose. Quindi il carcere, quindi l'ospedale, quindi le opere piedonini. Quindi credo che quello che si presenta oggi sia qualcosa di estremo valore, non solo per la qualità intrinseca a livello culturale ma appunto per l'animus che contengono, quindi per il valore sociale.